In questo terzo video delle passeggiate dentro al laboratorio musicale Varini voglio mostrarti quello che vedo io come docente riguardo la tua attività didattica. Quindi siamo dentro al corso Suonare il Blu senza la pentatonica perché l'utente 1 che abbiamo conosciuto nel primo video è iscritto appunto soltanto a questo corso in questo momento. Quindi io genero un report e vado a dare un'occhiata a cosa sta facendo. Questo max studente, utente 1, è al 38% del suo percorso all'interno di questo corso. Si è iscritto in questa data, l'ultimo accesso l'ha effettuato questa data, ha visto 28 oggetti didattici su un totale di 74 e ha passato 9 ore e 50 minuti sulla piattaforma. Queste sono le statistiche relative all'accesso al corso. Questi sono i vari punti. Questo è il motivo per cui all'interno di una piattaforma e-learning è importante che ci siano oggetti didattici tipici degli e-learning quali gli slides, gli scorm, eccetera. Voglio dire che se uno si scarica un pdf io non posso sapere se lo guarda attentamente piuttosto che se lo stampa e lo butta via oppure nemmeno lo guarda. Diverso è invece se sta guardando un video e quanto tempo ci passa. Quindi se tu sei il mio allievo che ti chiami utente 1 io verifico cosa stai facendo. Ma oltretutto posso guardare quando hai fatto quella lezione e quanto tempo ci sei stato. Questa è quella data. Che cosa hai fatto? Vedi, questo è uno zoom che mi permette di vedere quando hai fatto queste lezioni. Ovviamente saranno tutte nell'ordine quando non sarà un utente fake come ho fatto io, ma tu sarai l'utente e quindi andranno nell'ordine che la mia didattica prevede di metterti queste lezioni. Insomma, spero di essermi spiegato. Progresso. Ecco qua. Qua invece c'è proprio l'andamento file per il file didattico. Il primo video, quando è stato visto, l'ultima volta che è stato visto, il primo completamento, lo stato e qui vado a vedere quando c'è un test, quanto hai preso di voto. Adesso in questo caso ti ripeto è un utente fake, quindi saranno tutti verdi fino ad arrivare a uno giallo e poi a quello bloccato, quello che non hai fatto qui ho saltato avanti e dietro perché appunto è un utente test che mi serve per fartelo vedere. Posso vedere veramente ogni cosa che hai fatto fino ad arrivare all'ultimo, vedi metto last, quest'utente vediamo, vedi quest'utente ha fatto anche l'esame finale, elaborato, carica. Io vedo che hai tu, utente 1, hai scaricato il file, hai visto il video, pochi minuti prima, pochi minuti dopo, hai caricato il tuo elaborato e io ti ho dato questo voto. Quindi per me è completato e hai preso questo voto. A questo punto, dopo averti dato il voto per quello, io potrei anche esaminare e tutto l'altro percorso è aumentare o diminuire questo voto. Questo voto è quello che andrà a finire sul tuo attestato di frequenza del corso. Quindi come vedi non è un sito in cui uno scarica dei video, se li guarda e alla fine ha finito. C'è dietro un lavoro che io esaminerò soprattutto per i corsi quelli pro e avanzati e quindi credo che gioverà molto al tuo suonare. Ciao e al prossimo video!